ciao a tutti ecco qui non poteva non mancare un bel video di make food o far da mangiare eccoci qua si inizia subito con melanzana bianca molto saporita molto buona si taglia dadini come potete vedere mamma mia che maestria che destrezza si mette tutti in padella il pomodoro san marzano non può mancare nella mia tavola pomodoro è buonissimo anche questo tagliato sempre fettine messo tutto quanto insieme e adesso il tocco di classe olio di soia un po di spezie a piacere a secondo dei propri gusti noi ne abbiamo una speciale arrivata direttamente dal marocco quando si abbiamo fatto il nostro viaggio poi eccoli sono loro i ravioli ravioli vegani buonissimi ragazzi cottura due minuti una cosa velocissima pentola consigliatissima va attaccata la luce si spadella con un po di acqua sempre così riusciamo a tirarli buoni 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 acquolina che maestria che destrezza mamma mia che salto quei ravioli ed eccolo qua signore e signori ravioli al pomodoro e melanzana grazie a tutti